Sono andato in casa sua e alle 3.000 si spece mangiare un ragù e ha fatto un ragù grassissimo, un orto, un ricco e affiora tanto grasso cosissimo. Questo signor farà l'olio, per giurare, lui prende tutto con il grasso lì, lo metti in una padella che ci frigge le patate. Non si punta via niente, niente, niente. Presidente vuoi vedere un attimo qua sul palco, a bianco a Enrico Luotto, Fabio Brescacin, presidente di Eco Arugatura? Sì, prego, il mio posto e anche il mio posto. Che devo dire prima? Che devo dire? C'è una tabella di dove? No, io penso che... Lo ha detto prima... ... Invità. Sì, no, è interessante. Grazie. 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 dal salutatore per il momento ciao